Aspetta, è la penna. Mi dai una, mi presti una penna. E io voglio l'autografo pure. Eh? Voglio l'autografo. Eh, ti è. E dove me lo vuoi fare? Sulla camicia che è bianca. No, sulla camicia no. E fammelo qua, dai. Ma dai che dopo ci sentiamo per telefono, dai. È vero, tu vai. Ah, ci dobbiamo sentire per telefono. No, aspetta. No, no, parliamo di questo fatto. Ho chiesto una cosa. No, 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 non lo dico. Ognè, ho chiesto una cosa a lui e giustamente per chiederti e poi tu darmi una risposta ti ho dato il mio numero di telefono. Mo sta facendo lo scemo, lo sa? No, parliamo di questa cosa. Che io stasera sono libero. E io sono occupato. La sera? Sì. E dopo tutta sta storia qua, ma tutti ti vogliono, io sono geloso. No, nessuno mi piglia poi alla fine, quindi. Sono single. Eh, ci... Ci dovremmo conoscere, no? Va bene. Allora ci sentiamo per telefono più tardi. Va bene, ok. Però io ti chiamo davvero, poi non fa che tu mi rifiuti la chiamata, come le solide cose che te la tiri. Mai, mai. Va bene.